Siamo con il presidente di Federpharma Marco Cossolo. Oggi è stata presentata la seconda edizione di Gold for Kids. In che modo le farmacie possono contribuire? Le farmacie contribuiranno tutte mettendo la locandina col QR code dove si potranno raccogliere delle informazioni circa questa campagna e questa attività. Teniamo presente che questa campagna e questa attività, lo dico soprattutto a beneficio dei colleghi, è una cosa fatta per i bambini e se la malattia è pietosa nei confronti di chiunque, tutta la malattia è difficilmente curabile o incurabile, particolarmente lo è nei confronti dei bambini. Il secondo aspetto che noi vogliamo valutare sono delle farmacie che hanno già partecipato l'anno scorso e che metteranno a disposizione un contenitore dove fare delle offerte e spiegheranno che in cambio di queste offerte a livello simbolico verrà dato questo braccialetto che alla fine uno tiene anche volentieri perché ricorda che è il futuro dei bambini, come diceva il professor Veronesi. Lei diceva anche alla dottoressa Ramaioli, presidente delle fondazioni Veronesi, che le farmacie sono a disposizione. Ha detto utilizzateci anche per altre campagne. Certo, la farmacia ha un grande vantaggio, che la capillarità e il numero di ingressi, circa 4 milioni al giorno, quindi la possibilità di avere contatto con i cittadini godono fortunatamente di un grande rapporto di fiducia con i cittadini. Quindi quello che si chiama la responsabilità sociale dell'impresa noi ce l'abbiamo nel DNA e quindi siamo a disposizione per fare questa come altre campagne, ma del resto l'abbiamo sempre fatto. Grazie.